Buon pomeriggio a tutti, terzo incontro dei nostri passaggi a nord-ovest, il tentativo di far comunicare, di far parlare tra di loro saperi, conoscenze e in questo caso esperienze importanti. Questo passaggio a nord-ovest è un passaggio oggi che cerca di far confluire o cerca di vedere la confluenza tra due mari molto complessi che sono il mare della rete e il mare della fede. Come bussola per orientarci in questo percorso oggi c'è Don Alberto Ravagnani che è ormai una star. Io ho conosciuto Don Alberto da studente, da bravo studente del liceo classico e oggi me lo ritrovo come star indiscussa dei social network dentro una logica appunto che è la logica di una sorta di traversata, di traversata dentro il mare dei social e di internet, un mare che appunto è un mare complesso, a volte anche pericoloso io credo. Don Alberto si occupa dunque di un aspetto importante che è quello, potremmo dire, non so, poi lui mi smentirà, ma è quello della evangelizzazione attraverso i social network. Da noi oggi viene per parlare di questa esperienza, ma anche io spero di parlare di un aspetto che ci sta particolarmente a cuore che è l'aspetto educativo. Il domenica 24 gennaio del 2021 sull'avvenire è apparso un articolo dedicato a Don Alberto, il cui titolo è Don Alberto Ramagnani online ci attende una sfida educativa. Ecco, se crede Don Alberto poi potremmo, come dire, riflettere insieme su questo aspetto. In ogni caso io adesso gli lascio la parola affinché ci racconti da questa sua esperienza, questo suo modo così originale, forte, potente di, come dire, testimoniare la fede. Prego Don Alberto. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Io conosco personalmente il professore Claudio Fontana e il professore Emanuele Giardini per motivi diversi, perché con Emanuele abbiamo condiviso tante belle esperienze all'oratorio, mentre con Claudio abbiamo condiviso lo studio al liceo. Anzi, il professore Claudio è stato quello che mi ha fatto poi innamorare dello studio, del sapere, della filosofia. Non dico che è stato prof Claudio mandarmi in seminario, però diciamo che è stato un tassello importante nel mio cammino. Io mi ricordo che, piccola nota biografica, poi parto, in quarta superiore io ho avuto questa sorta di chiamiamola vocazione, diciamo, e peccato che il programma di filosofia di quarta superiore mi abbia presentato delle figure piuttosto complesse da mettere insieme con la mia fede. Mi ricordo una crisi profondissima di fronte al pensiero di Spinoza. Ero andato dal mio don a chiedere spiegazioni, ma lui non si ricordava un'acca di quello che aveva studiato di Spinoza. E ho detto, ma com'è possibile? Io cerco risposte e non solo mi dà risposte. Quindi questa grossa crisi intellettuale, diciamo così, si è però messa accanto a un'esperienza che io stavo facendo, crescere per me ha significato mettere insieme un po' tutti i vari piani del reale, quindi la razionalità, ma la mia esperienza, le mie emozioni, le mie relazioni, la mia storia. E questa crisi paradossalmente mi ha fatto bene, perché poi mi ha fatto scegliere in maniera più consapevole. E tutti i giorni, non dico che tutti i giorni entravo in classe, il prof. Claudio mi provocava, però mi ricordo che ero sempre stimolato a rendere ragione, diciamo così, della mia fede o cercarla, perché avevo 17 anni, non è che avevo le risposte, ero un ragazzino. E niente, è passato tanto tempo, sono entrato in seminario, sono diventato prete, sono stato mandato a Busto Arsizio a fare questo lavoro, nel senso più nobile del termine, e poi da un annetto circa sto improvvisandomi anche sacerdote, diciamo così, su altre piattaforme, non solo sui campi dell'oratorio, ma anche su Instagram, su YouTube, eccetera, eccetera. Perché? Perché mi sono trovato a farlo. Non c'è stata una progettazione a tavolino di tutto ciò, mi sono reso conto che il social, il web offriva delle opportunità e in maniera molto spontanea l'ho colta, mi sono proprio buttato in questo mare. All'inizio, forse un po' annaspato, ma evidentemente ho preso una corrente giusta che mi ha tirato in avanti e ha funzionato, perché ho potuto sperimentare, scoprire con mano che il web in realtà può rivelarsi un modo per, per me, evangelizzare, per educare, per passare dei valori. Allora, il discorso è piuttosto complesso, adesso provo ad affrontarlo, a partire dalla mia esperienza. Io non sono uno che ha studiato queste cose. Io semplicemente ho fatto il leccio classico e ho fatto il seminario. Sono uno che ci lavora tutti i giorni, tutti i santi giorni della mia vita, H24, ho le mani in pasta in questo mondo, che è il mondo che è la Chiesa ed è anche il mondo, ed è anche il mondo virtuale, il mondo digitale. Allora, io direi che è necessaria forse qualche premessa per mettere a punto qualche coordinata per orientare un attimino un discorso rispetto a questi argomenti. Allora, oggi io mi trovo a fare il prete sul web, a evangelizzare sul web, quindi a portare un messaggio che viene da molto lontano. Io ripeto le cose che la Chiesa ripete da duemila anni a questa parte, solo che ai tempi di Gesù, ai tempi di Francesco Rassisi, non c'erano Instagram, YouTube, TikTok, eccetera, eccetera. C'erano altri mezzi di comunicazione, oggi ci sono questi. Ecco, direi che il primo dato da mettere lì è questo, che la Chiesa si trova a comunicare un messaggio molto antico in una maniera nuova rispetto al passato. Ma a ben vedere questo procedimento, che oggi magari crea tanto scandalo, un prete sul web evangelizza con TikTok, cioè titoli di giornale, dovrebbe essere in realtà la normalità, perché la Chiesa ha sempre fatto così. Da che Gesù ha parlato e portato questo contenuto, questo contenuto è stato sempre trasmesso e stiamo parlando di comunicazione, bene, la comunicazione prevede che ci sia un emittente del messaggio, un messaggio, un destinatario. E i messaggi, i contenuti comunicativi passano su dei supporti, ok, che noi chiamiamo media, appunto, mediano il messaggio. La storia dell'evangelizzazione, del Vangelo della Chiesa, vista dal punto di vista della comunicazione, è tutta una grande rimediazione della parola di Gesù, che di epoca in epoca, al cambio dei mezzi di comunicazione, in corrispondenza delle rivoluzioni comunicative, ha dovuto, appunto, rimediarsi. Ma a ben vedere, questo è un procedimento che non riguarda solamente il Vangelo, ma riguarda l'umanità. L'uomo primitivo, anche esso, ha imparato a comunicare e all'inizio utilizzava dei mezzi di comunicazione davvero primordiali, disegni, pitture rupestri e solo dopo un po' c'è stata questa transizione epocale verso la scrittura. Quindi sono comparsi le lettere che hanno messo insieme le parole, che hanno permesso di elaborare dei concetti più complessi per conservare delle tradizioni, per permettere di salvaguardare quello che avevano imparato e loro dovevano sopravvivere e quindi le nozioni più pratiche, più fondamentali che permettevano la sopravvivenza della specie avevano bisogno di essere trasmesse di generazione in generazione e non solo, chiaramente, come costruire, come fabbricare le lance per uccidere mammut, ma anche quello che più propriamente costituisce il patrimonio dell'umano, che sono anche relazioni, che sono emozioni, che è la poesia, che è il sacro e quindi la scrittura ha permesso all'uomo, in qualche modo all'umano, di continuare a vivere nel corso del tempo, anzi di essere sempre più umano. E la comunicazione vediamo che si è evoluta, anche la scrittura è passata dalle pareti ad altri tipi di supporti che sono sempre stati sempre più evoluti, vediamo i papiri, vediamo poi le pelli, ad un certo punto un geniaccio ha pensato bene di creare il libro a stampa che ha permesso di archiviare su dei supporti mobili, trasportabili, infinità di parole, infinità di concetti, infinità di sapere e questa è stata veramente una grandissima svolta. Perché? Perché tutto un patrimonio culturale di generazioni e generazioni, di popoli, poteva concentrarsi in un supporto, in un mezzo di comunicazione che tu potevi trasportare, lo potevi prendere, prestare, scrivere, commentare e questa è stata veramente una svolta epocale. Adesso noi, in realtà, ne siamo appena venuti fuori, diciamo così, ci troviamo di fronte ad un'altra grande svolta comunicativa, analoga a quella del libro, che è quella delle memorie digitali. Ora, i nostri dati, tutto quello che noi possiamo comunicare non solo viene messo su carta, ma viene messo appunto su dei file. Ora io non sono un tecnico di queste cose, però insomma è chiaro, fa parte della nostra quotidianità ormai i testi, le foto, i video, i documenti, li possiamo tutti quanti archiviare. E questa ulteriore rivoluzione comunicativa che è passata attraverso il mondo del digitale, in realtà cosa ha fatto? Ha semplicemente riproposto in altra versione quello che il libro aveva riproposto in formato cartaceo, quello che l'invenzione della scrittura aveva riproposto in formato appunto letterale rispetto ai disegni. La storia della comunicazione non è una storia di discontinuità, ma è una storia di grande continuità, per cui di fronte ad ogni cambio di mezzo di comunicazione assistiamo semplicemente allo stesso fenomeno, una rimediazione. I messaggi vengono mediati attraverso nuovi mezzi. E' chiaro, questo apre grandi scenari che sono notevoli, andrebbero indagati. Perché? Perché è anche vero che il mezzo di comunicazione, rimediando messaggio, chiaramente lo ripropone in maniera diversa, a volte lo modifica, lo cambia, però permette il messaggio di varcare il tempo e di raggiungere altre persone, altre generazioni. La Chiesa si inserisce in questa storia della comunicazione e anch'essa si trova a fare questo mestiere, rimediare la parola di Dio. Gesù all'inizio parlava, ok? La cosa interessante di Gesù, che sosteneva di essere, gli erano attribuito e riconosciuto, di essere la parola di Dio, il verbo di Dio che si era fatto carne, lui non ha mai scritto niente, se non si dice nel Vangelo Giovanni, qualcosina scritto per terra, ecco, sul pavimento del Tempio, sulla sabbia, insomma. Gesù non ha mai scritto niente, hanno scritto altri di lui, sì, dopo però aver trasmesso oralmente i racconti, le testimonianze, quindi i discepoli, dopo aver ascoltato Gesù, averlo visto, averlo incontrato, essere scappati di fronte alla croce, averlo visto risorto, iniziano a raccontare semplicemente quello che hanno visto e il racconto, trasmissione orale, mediazione orale del messaggio, arriva ad altre persone che vengono appunto colpite, accolgono questo messaggio, a loro volta lo rimediano, quindi lo riraccontano e questo giro di racconti, riracconti, crea delle tradizioni orali, ma perché all'epoca era tutto trasmesso oralmente, non c'era questa gran necessità di scrivere, se non che a un certo punto la gente si accorge che c'è un problema, ossia che noi siamo a tempo determinato, a un certo punto moriamo, per cui tutto quello che abbiamo imparato e visto e conosciuto, se non lo passiamo, rischia di finire e quindi a un certo punto dicono, vabbè dai, scriviamo due robe, prendiamo due appunti perché sennò qua ci dimentichiamo tutto e allora nascono i Vangeli e nascono le lettere di Paolo, di Giacomo, di Giovanni, tutti quei testi che oggi costituiscono il patrimonio sacro di testi della Chiesa. Bene, tutti questi testi vengono, non esistevano i libretti, non c'erano i fascicoli, non c'era il Vangelino Bellino che ci regalano a noi la Prima Comunione dove c'è tutto il Vangelo, ok, non c'erano queste possibilità. Questo è stato fatto solamente dopo, ma per secoli la Chiesa non ha avuto bisogno che tutti quanti avessero il Vangelo a casa, cosa che per noi oggi è la base, non lo so. Bastava che ci fossero però, non lo so, i sacerdoti che fossero i custodi di questo patrimonio e lo tramandassero agli altri, i monaci, i monasteri che permettessero a questo messaggio di essere tramandato, ma questo corrispondeva perfettamente alla storia della comunicazione, perché ogni tipo di altro contenuto passava così. C'erano poche persone che avevano il monopolio dei mezzi di comunicazione e che permettevano a certi contenuti di passare però in ambienti abbastanza ristretti. La maggior parte delle persone questi strumenti non li aveva. Man mano che avanziamo, passano i secoli e le possibilità di comunicare si estendono e quante più persone possibile arrivano a contatto con i libri, con le Bibbie, Rivoluzione, il Lutero eccetera eccetera. Insomma, il tema della comunicazione è decisivo nelle vicende storiche che sono consumate attorno alla riforma e alla controriforma. Ebbene, arriviamo alle soglie del Novecento più o meno, insomma, dove ci sono delle grandi rivoluzioni comunicative. Il tempo e lo spazio per la prima volta, meglio, in una maniera ancora più evidente rispetto a prima, vengono infranti. I libri permettevano di tramandare messaggi nel corso dei secoli. Bene, la radio, la televisione, i social permettono di farlo istantaneamente, tipo quello che sta succedendo adesso ad esempio. Siamo fisicamente distanti eppure è come se fossimo nello stesso momento. C'è una dimensione attuale che vive in maniera a distanza, insomma. La virtualità arriva nelle case, nella quotidianità delle persone. Ecco, e il Vangelo, questo messaggio che da duemila anni è lo stesso, deve confrontarsi con queste nuove possibilità. Quindi la Chiesa si trova di fronte a questa grande sfida. E oggi, nel momento in cui io dico, beh, devo passare questo messaggio che è lo stesso di sempre. Non posso prescindere dai mezzi di comunicazione con cui oggi gli uomini comunicano. Ci sono i libri? Sì. C'è la tradizione orale? Sì. C'è l'incontro personale? Sì. Ma c'è anche il virtuale, che oggi è una dimensione dell'umano e della realtà. Sì, forse fino a qualche tempo fa c'era ancora chi distingueva in maniera piuttosto marcata la realtà dalla virtualità. Cioè, che è reale, non è virtuale. Sì, stai attento perché quello che cade sui social non è vero, bla bla bla. Insomma, c'era un po' di retorica rispetto a queste novità dovuta anche al fatto che la generazione più adulta non è cresciuta con questi mezzi di comunicazione, se li ha trovati lì davanti e non ha avuto la capacità, la possibilità, ma giustamente di conoscerli e di utilizzarli. Quindi c'è stata un po' di paura, un po' di ritrosia nel momento in cui venivano proposti magari ai ragazzi. E niente, invece oggi assolutamente noi possiamo dire in maniera, mi sento di dire chiara alla palissiana, che la distinzione fra reale e virtuale oggi perde qualsiasi valore, significato. Cioè, il virtuale non identifica ciò che si contrappone al reale, piuttosto quello che si contrappone all'attuale. Ok? Ma è chiaro che quello che accade virtualmente oggi condiziona la nostra realtà anche personale. Pensiamo per dire alla manipolazione della della comunicazione, al tema della post verità, delle fake news, della demagogia, insomma, la propaganda, la propaganda, quindi un certo tipo di comunicazione, ha saputo fare anche dei grossi, ha avuto degli impatti reali piuttosto evidenti nel corso della storia. Pensiamo a per esempio i totalitarismi e anche oggi quello che succede sui social, quello che si dice non si dice, influenza le persone. Anche in maniera molto molto banale e semplice, io vedo ragazzini che hanno un telefonino, hanno un profilo Instagram, hanno TikTok e sono a contatto con un mondo che comunica, con persone che comunicano e questa comunicazione nel momento in cui arriva ti segna. E nessuno può dire che è virtuale, perché se no, se fosse stato virtuale, quella ragazzina di Palermo, la bambina di Palermo, a dieci anni non sarebbe mai uccisa tentando di imitare una challenge che veniva proposta su TikTok. Quello che accade sui social è tremendamente, drammaticamente, reale. Nel bene e purtroppo anche nel male. Dobbiamo anche considerare oggi che i media, i social network, la televisione, come dire, non sono più delle cose che hanno un confine e un contorno e una consistenza specifica. Magari i nostri nonni, cioè i libri sono lì in libreria e li vedi, ok? Hanno un peso specifico, hanno una dimensione, una forma, li mettono in un posto e stanno lì. I nuovi mezzi di comunicazione, i nuovi media sono invisibili. Instagram, dov'è Instagram? È dovunque Instagram. La radio, è dovunque la radio, la televisione è dovunque. Sono invisibili. Quindi quando pensiamo ai mezzi di comunicazione, non pensiamo solamente a qualcosa di concreto che puoi toccare con mano, ma in realtà che oggi sono veramente invisibili. Come si dice? Addirittura ce li abbiamo addosso. Magari avete, non so, io ho uno smartwatch e questo è un mezzo di comunicazione. Nel telefono ho la comunicazione, nelle lampadine che comando con Alexa ci sono dei mezzi di comunicazione, c'è dovunque, attorno a noi ci sono mezzi di comunicazione, ci sono dei media e sono invisibili. Quindi nel momento in cui ci approcciamo a questo mondo dobbiamo considerarli in maniera diversa rispetto a come magari ci verrebbe più facile da valutarli, secondo perlomeno a categorie del passato. Altra considerazione che va fatta è che i mezzi di comunicazione non possiamo nemmeno pensarli come degli strumenti che servono a qualcosa. A cosa serve Instagram? Questa è una domanda sbagliata. Cioè non è più solo uno strumento il mezzo di comunicazione, è un tessuto connettivo della società tra le persone. Sono quasi direi delle sinapsi sociali che permettono alle persone di incontrarsi, di far accadere delle cose, non servono a qualcosa e basta. Sono dei contesti da abitare, sono più dei luoghi oggi i mezzi di comunicazione. Quindi è difficile, anzi forse è scorretto, è sbagliato, separare in maniera netta il reale dal virtuale. È riduttivo considerare i mezzi di comunicazione come delle cose nello spazio che possono essere toccate perché sono invisibili e i mezzi di comunicazione oggi dobbiamo riconoscere che non sono più nemmeno solo degli strumenti ma sono veramente dei contesti, dei tessuti connettivi che vanno abitati. Bene, nel momento in cui la Chiesa ha un messaggio da passare deve sapere quali sono i mezzi attraverso cui questo messaggio può passare e queste sono le caratteristiche di questi mezzi di comunicazione e, diciamo così, di questo tipo di società. Diciamo così, oggi siamo, un tempo, diciamo così, per forse prima dei social, viviamo in una società che potevamo chiamare dell'informazione, non lo so, dove l'informazione è la cosa più importante, come dire, le cose da sapere, i dati. Oggi invece, diciamo così, siamo andati oltre, non siamo più nella società dell'informazione, dove l'informazione è la cosa più importante, ma siamo, dicono gli studiosi, nella società informazionale, dove l'informazione non è solo la cosa più importante, ma è parte della società stessa, dove l'informazione, la comunicazione, i mezzi di comunicazione non sono delle cose importanti nella società, ma sono la società, costituiscono la società. Cioè non possiamo più prescindere da queste cose. Un tempo, potevamo dire che c'erano dei momenti in cui eravamo online e offline. Bene, oggi questa cosa non esiste più. Oggi sono i media ad essere diventati on life. Sono dentro la nostra vita. E questo è chiaramente una grossa rivoluzione, un grosso cambio di paradigmi. E davvero questo cambiamento va preso per le corna nel momento in cui uno vuole comunicare efficacemente, ossia ha davvero qualcosa da dire. Allora, la Chiesa, io penso che quello che fa la Chiesa possa essere un caso emblematico di comunicazione che poi possa valere e ciascuno possa in qualche modo rileggere a partire dalla propria esperienza. Perché indubbiamente credo che la Chiesa sia, a tutti gli effetti, la più grande agenzia di comunicazione della storia. Sicuramente è quella che ha retto di più, sicuramente è quella che ha prodotto più comunicazione, su vari fronti, comunicazione artistica, letteraria, teologica, filosofica, sociale. Cioè, come dire, chi studia la storia della Chiesa, chi studia la storia, chi studia appunto, si rende conto che la Chiesa ha prodotto quantità impressionanti di valore. Un valore inestimabile in ogni tipo di ambito umano. Quindi l'agenzia di comunicazione più grande della storia è sicuramente la Chiesa. Perché? Perché aveva delle cose da dire. Questo penso che sia il punto principale. Se uno vuole comunicare in maniera efficace, deve chiedersi se ha qualcosa da dire. Tante persone si buttano nel mondo della comunicazione, anche tante aziende, non lo so. Perché? Per quale motivo? Non saprei. A volte uno non ha delle cose da dire. Ma dovremmo chiederselo anche rispetto ai nostri profili. Perché siamo su Instagram? Perché siamo su TikTok? Abbiamo qualcosa da dire? Se non abbiamo qualcosa da dire, forse non è proprio necessario essere così presenti, pubblicare tutti i giorni. Sì, poi uno dice io sono sui social perché guardo quello che fanno gli altri. Ci sta, perfetto. Però credo che tutti i mezzi di comunicazione di oggi ci diano una grande libertà, una grande possibilità di dire quello che abbiamo da dire. Però ci rendiamo anche conto che non bastano le possibilità tecniche che tutti hanno, occorre che entri in gioco la nostra vita interiore. Ciò in cui crediamo, ciò in cui crediamo la nostra esperienza, il valore che vogliamo portare nel mondo. Se questa cosa è chiara, i mezzi di comunicazione diventano una grandissima possibilità. Io a marzo dell'anno scorso mi sono trovato nella posizione di avere un sacco di cose da dire, che erano quelle che dicevo sempre, ma non avere la possibilità di farlo perché l'oratorio era chiuso. Mi sono svegliato e ho detto bene, proviamo a cambiare paradigma. Ho utilizzato i social, ho fatto video e mi sono reso conto che mi hanno dato un sacco di possibilità. Io manco mi immaginavo che potessi in qualche modo riuscire a dire certe cose in una certa maniera e proprio i social network me l'hanno permesso. Ecco, quindi la Chiesa sicuramente ha avuto qualcosa da dire e ha ancora qualcosa da dire. Ed è sicuramente la cosa principale, la condizione senza la quale non avviene l'atto comunicativo compiuto. D'altra parte però non basta nemmeno avere delle cose da dire. Occorre riuscire a dirle nel modo giusto di fronte all'interlocutore che abbiamo davanti. Anche su questo la Chiesa è stata sempre molto brava. Cioè, il cristianesimo, diciamo così, non esiste il cristianesimo punto. Esiste il cristianesimo inculturato in quella zona del mondo, in quella cultura, in quell'epoca storica. Il messaggio di Gesù è universale, è cattolico, è eterno, è una parola che non passa. E quindi va bene per il popolo giapponese, che è una cultura che è assolutamente diversa dalla nostra. Va bene per anche l'Europa del 1200, che non ha niente a che fare, forse per tanti versi, con la società occidentale capitalistica di oggi. Quindi non esiste il cristianesimo a sé stante. Esiste sempre un cristianesimo che si comunica, un messaggio che si comunica. La Chiesa ha sempre dovuto provare a tradurre praticamente questo messaggio alle persone che aveva davanti. Epoca storica, tradizione, cultura, eccetera, 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 eccetera. Oggi la Chiesa in Occidente, nella nostra società, c'ha davanti degli interlocutori che non sono sicuramente quelli di 500 anni fa, ma manco quelli di 60 anni fa. Cioè i ragazzi di oggi non sono i ragazzi di 50 anni fa. E questa cosa non è irrilevante, è assolutamente recisiva, io posso vedere le cose più belle del mondo da dire. Ma se non le so comunicare, ciao ciao, ma questo chiunque può dirlo, qualunque studente, potrebbe dire che sì, il professore sicuramente ne sa un sacco, è molto preparato sulla sua materia, ma se non riesce a spiegarsi, se non riesce a spiegare, cosa me ne faccio io di tutta la sua scienza, di tutta la sua preparazione? E' un problema decisivo, quindi la Chiesa di fronte a questa grande sfida, capire chi ha davanti, capire quali sono i linguaggi delle persone che hanno davanti, quali sono l'orizzonte di comprensione, le categorie attraverso cui viene interpretata la realtà oggi. E infine occorre anche una capacità, come dire, pratica di utilizzare, e poetica, estetica direi, i linguaggi comunicativi. Cioè, non si tratta di avere in mente un contenuto da dire e poi in qualche modo tradurlo dopo una serie di processi un po' meccanici in un linguaggio che i giovani di oggi possano comprendere, va bene? Perché se no ti viene fuori, classico, non so, sito internet della parrocchia, ok, sito internet moderno, per carità, oppure profilo Instagram moderno, perché è una cosa moderna, ci mancherebbe. Però quello che leggi, i contenuti che sono proposti, sono assolutamente, diciamo così, estrinseci rispetto al mezzo di comunicazione che tu hai utilizzato. Ecco, ma questo è la testimonianza cristiana, questo è il Vangelo, c'è la capacità di incarnarlo nella tua esperienza. Cioè, oggi un cristiano, un prete, un laico, un diacono, un chiunque, insomma, che ha vissuto in questo mondo, che è cresciuto col telefonino in mano, che ha un profilo Instagram, non è che deve sforzarsi meccanicamente, diciamo così, di capire come tradurre quel messaggio in un modo che, cioè, è una cosa che viene con la vita. E questa è la grande sfida, ed è il bello della comunicazione, che non è solo una questione di tecnica, non è che vai a scuola e impari tecniche di comunicazione, è una questione di, non lo so, estetica, direi. Ma questo vale per ogni tipo di comunicatore. Oggi è pieno di scuole e guru che pretendono di insegnare a comunicare. i 10 segreti per una comunicazione efficace, i 5 step per comunicare meglio con tua moglie, 20 tecniche per essere un bravo insegnante. Cioè, oggi è pieno di tecniche, tutti quanti si improvvisano tecnici, esperti di comunicazione, ma, eppure mi sembra che, cioè, come dire, non è che nel mondo la se... Cioè, ci sono comunque dei problemi. Se bastasse avere la ricettina, la formulina, i 5 passaggi per riuscire a fare, a risolvere i nostri problemi, beh, la vita sarebbe veramente una pacchia. Invece non è così. Non basta la tecnica, occorre la vita. Io penso che imparare a comunicare sia come imparare... Ho una lingua nuova, non lo so. Se io voglio imparare l'inglese, va bene, posso studiare l'inglese a scuola. Studiate l'inglese a scuola, l'ho studiato molto bene al mio liceo e mi è sicuramente servito, ma non posso dire che so parlare l'inglese, perché io l'inglese non l'ho mai parlato. Cioè, l'ho solo studiato. Ho solo fatto gli esercizi, va bene? Non sono mai andato in un paese a contatto con persone che avessero questa, come lingua madre, a comunicare in questa lingua. Ecco, la tecnica non può bastare, ma neanche la chiesa oggi può affidarsi a delle tecniche di ricomunicazione. Ok, adesso le parrocchie devono fare dei siti internet e devono mettere i volantini sul sito internet. Cioè, questo non può bastare, ovviamente. Occorre capire che hai qualcosa da dire, il tuo messaggio, che è lo stesso da sempre. Fai pace col fatto che quello che ci troviamo a fare adesso, cioè tradurre un messaggio antico in una maniera moderna, la chiesa l'ha sempre fatto, perché la storia della comunicazione è una storia di continuità e di rivoluzioni che non hanno stravolto, ma hanno semplicemente rimediato una capacità, una possibilità di comunicare. Quindi dobbiamo fare pace con questa cosa, sapere che il Vangelo non ha paura della modernità, perché non ha avuto paura di nessuna epoca storica, capendo che davanti a noi abbiamo delle persone che sono destinatari di una comunicazione, che hanno un linguaggio, che hanno un certo grado di comprensione, che hanno delle categorie che io devo intercettare, perché se non le intercetto, io posso avere chiarissimo in testa tutto, ma la comunicazione non ne verrà mai. Penso che la sfida più grande della chiesa di oggi sia questa. Noi veniamo da un'epoca, da epoche di cristianesimo veramente meraviglioso, cioè hanno prodotto tantissima arte, cultura, letteratura, siamo stati in grado di far fiorire l'umanità. Adesso c'è bisogno, l'urgenza che io vedo è quella di riuscire a comunicarla. Tutto ciò. Di fare in modo che non sia solo un ricordo da museo, che non siano solo belle parole sui libri di storia o belle immagini sui libri di storia dell'arte, che non siano solo cose che trovi nelle chiese, ma che sia qualcosa che possa essere comunicato. Come ha fatto bene agli uomini del passato, può fare bene anche oggi. Quindi la chiesa oggi non è che forse ha bisogno di approfondire, di scoprire, di inventarsi cose nuove, ma forse perché non l'ha mai fatto. Si tratta semplicemente di prendere sul serio gli uomini di oggi, le necessità di oggi, le contraddizioni di oggi, i problemi di oggi, e portare oggi il Vangelo. Cioè è una buona notizia. In che modo il Vangelo di duemila anni fa, oggi è buona notizia, e fa fiorire l'umanità e fa progredire la società, questa cosa è stata fatta per duemila anni, ha sempre portato buoni frutti. Io penso che anche oggi, nel momento in cui la chiesa riesce a comunicarlo bene, questo Vangelo, comprendendo bene qual è il suo interlocutore, quali sono i suoi linguaggi, quali sono le sue categorie, anche oggi il Vangelo può essere effettivamente tale. C'è una buona notizia che fa fiorire l'umanità. però c'è bisogno di comunicarlo bene. Ecco, io ho fatto più di un balzo sulla sedia, ascoltando il discorso bellissimo, la riflessione bellissima di Don Alberto. Sono ovviamente tanti gli appunti che ho preso, e tante le questioni che hai fronti di riflessione che vorrei aprire con voi insieme a lui. Io però prima chiedo a tutti i nostri amici che sono collegati di intervenire, non voglio prevaricare, ci mancherebbe. Chiedo innanzitutto alle nostre amiche, ai nostri amici che sono collegati con voi, di intervenire se credono, anzi li sollecito, e in primis anche, ovviamente, Emanuele. prego. No, qualche domanda per forza bisogna fargliela, perché durante le mie lezioni mi chiedono ma lei conosce il Don Alberto Ravagnagli? Ha detto sì che lo conosco, deve venire a parlare a voi, e ora è qua e non gli fate le domande. E va bene. Non mi tiro indietro, insomma, siate... Sicuramente lo seguite, sapete un po' chi è, un po' qualcuno ti ha visto su TikTok, qualcuno ti ha visto con Fedez, qualcuno ti ha visto su qualche tuo video e devo ammettere che innanzitutto, insomma, grazie per questo percorso che chi mi ha come prof di religione sa che insisto tanto su questa cosa del linguaggio, della comunicazione e dello stare on life, come hai detto giustamente tu, perché è davvero una cosa che non è che si stacca, non c'è questo confronto tra reale e virtuale sicuramente. E poi, insomma, tante questioni sono uscite, poi anche partendo da video, racconti, tra l'altro da racconti e video non solo tuoi, ma anche chi magari con i video, stando nel web, racconta storie di fede, ma che sono un po' contraposte, quindi magari chi dice che nella Bibbia si parli di alieni, chi vede il complotto, chi dice le cose strane, e quindi, non lo so, l'unica domanda che un po' te l'avevo già anticipato è ma che spazio ha la fede quindi? Proprio una persona, non lo so, un ragazzo di questi che sono collegati, o magari ecco, forse più diretta, senza ovviamente chiederti i nomi, perché non si può, ma quanti delle persone, ti è mai capitato che qualcuno poi ti contattasse per dire, per farti capire che l'hai agganciato, che questa tua comunicazione è riuscita a arrivare, con i video, le cose che riesci a fare online? Allora, interessante, la prova di questa cosa ce l'ho in casa, perché adesso io vivo con una persona, che è un ragazzo di 18 anni, che mi aveva contattato quando ne aveva 17, su Instagram, con le classiche domande esistenziali, ok, crisi esistenziali, domande su Dio, la vita, il senso di tutto, eccetera, lui è una persona molto, vita molto particolare, molto emancipato, lui è del 2003, ha lasciato, forse non è un buon esempio da questo punto di vista, ha lasciato la scuola tradizionale, si è scritta una scuola online, perché voleva dedicarsi alla scrittura, la scuola che lui non, che frequentava, gli stava molto stretta, si è messo, adesso lavora, lavora per la radio, per agenzie di comunicazione, ha scritto un libro, ed è quello che presenta con me da un doncast, non so se avete visto il podcast che conduco, ed è il ragazzo che mi affianca nella conduzione, quindi a partire da social network, e dalla provvidenza, perché io ho una caterva di messaggi, quindi ho letto proprio il suo, non li leggo tutti, non ce la faccio, e lui si è molto, si è aperto tantissimo, e quella conversazione è stata reale, è stata reale, non solo perché adesso c'è un rapporto reale fra me e lui, ma perché anche all'epoca lui era autentico nel momento in cui mi ha parlato, io quando gli ho risposto era autentico, e c'è stata un'autentica comunicazione, che poi ha portato a delle vite che si sono incrociate, e hanno infatti permesso di incrociare anche vite di altre persone. Io credo che i social network sicuramente non sono, cioè, parlare faccia a faccia è un'altra cosa rispetto a che comunicare, ma appunto è un'altra cosa, e non c'è da fare, secondo me necessariamente, i paragoni, è meglio e peggio, il discrimine è l'autenticità, perché, e questo ciascuno può dirlo, non è detto che parlare faccia a faccia con qualcuno significa essere autentici. Quanti tradimenti, quante menzogne, quanti doppi giochi, che fanno più male, anzi, quando si consumano in presenza. se sono autentico nella vita reale, posso essere autentico anche dietro uno schermo. Forse dietro uno schermo i rischi aumentano, diciamo così, cioè hai più possibilità di nasconderti, hai più possibilità di mentire. Però il punto è quanto tu sei autentico nel momento in cui parli. Allora, Don Alberto, se nessun altro interviene, chiedo alcune cose. Intanto, come tu hai vissuto la questione della DAD, cioè della didattica a distanza, dal tuo osservatorio, per noi, per la scuola, da un lato è stata una specie di catastrofe perché ha rotto completamente abitudini, standard, modalità e una parte degli insegnanti, quelli che hanno capito, diciamo, hanno capito che dovevano cambiare metro di valutazione, modo di organizzare la lezione, accogliere e approcciarsi a questo mezzo in maniera attenta e rispettosa perché questo chiede. E allora, ad esempio, noi al Frizi ci siamo inventati questa soluzione che è anche quella di Frizi Channel, ad esempio. Abbiamo cercato di lavorare in questa direzione. Tu, dal tuo osservatorio, come hai percepito e cosa pensi dell'esperienza della DAD? Io sono anche un insegnante di religione, non so se l'ho detto prima, insegno religione nel liceo scientifico di Busto. È un po' come il Frizi, è un po' come il Frizi, diciamo così. Ok. Come nomea, ecco. Quindi buona, quindi ho un'ottima fama. Insegno religione perché anch'io ho dovuto far fronte alla didattica a distanza. È stata abbastanza faticosa, però mi sono anche reso conto di questo. E questo posso dirlo rispetto a come invece è andata la proposta a distanza della catechesi, dell'attività in oratorio, che la didattica a distanza è una conseguenza, diciamo, la resa della DAD è una conseguenza della didattica in presenza, secondo me. Cioè, è vero che dietro uno schermo non è come stare faccia a faccia con gli alunni. Cioè, io sono tornato in classe stas settimana, cioè io godevo perché potevo vedere le persone, perché potevo sbracciarmi, perché potevo parlare, perché c'è. Ci sono tutta una serie di codici comunicativi che si aggiungono nel momento in cui entra in gioco il corpo. E questo è sicuramente una ricchezza. Però, d'altra parte, la DAD, io penso che forse ha messo un po' a nudo il mondo della scuola, i professori, i ragazzi, e ci ha costretto a considerare questa verità che le nostre lezioni non valgono niente se alla base non ci sono delle relazioni. Che la scuola non è solo intanto questione di fare delle lezioni, ma che la materia della scuola forse sono le relazioni tra i professori e gli alunni, tra i professori e i professori, tra i ragazzi e i ragazzi. Nel momento in cui ci sono queste relazioni di fiducia, di relazioni asimmetriche, discepolo maestro, relazioni asimmetriche, compagni di classe, allora c'è anche lo spazio fecondo per passare nozioni, passare un'esperienza, testimoniare delle scelte di vita. e la DAD in qualche modo ci ha costretto, cioè ha ridotto le relazioni al minimo, diciamo così, all'osso, all'essenziale, ci ha costretti proprio ad attaccarci a quanto ci crediamo che la scuola è relazione innanzitutto, quanto ci crediamo che quello che conta di più è il rapporto con il mio professore e con i miei compagni di classe. A volte mi rendo conto che è come se siano rimaste solamente le lezioni. è chiaro che poi gli alunni si sottraggono se non c'è relazione, è chiaro che poi magari i professori forse non si preparano al meglio se non ci sono le... Abbiamo tutti fatto una gran fatica, abbiamo tutti tentato di fare del nostro meglio, però non dico che il danno era fatto, dovevamo giocarci la prima la partita giusta. Ecco, io penso che adesso dopo questa esperienza critica abbiamo la possibilità di tornare in presenza perché torneremo in presenza 100%, a breve spero, e avere tutto un altro tipo di sguardo, tutto un altro piglio. Ok, sì sì, sono d'accordo, assolutamente, è così. Sì, non ci sono altri interventi, ecco, volevo ringraziarti per le tue parole e poi hai sparito. C'era qualcuno che in chat si dice ciao Don Alberto, innanzitutto volevo ringraziarti per le tue parole e per essere venuto qui a parlarci. In secondo luogo volevo chiederti quanto cristianesimo e cattolicesimo sono la stessa religione e perché oggi vale la pena essere cattolici? Porca! meno male che la ha fatto a te questa domanda e non la fanno in classe perché avete dovuto prendermi in una serie. Allora, è chiaro che il cristianesimo non si riduce al solo cattolicesimo, dentro la configurazione ecclesiale cristiana ci sono diverse confessioni cattolica, ortodossa, protestante. Allora, sto semplificando moltissimo perché in realtà purtroppo c'è un gran casino, c'è una gran divisione, c'è stata una gran divisione lungo la storia e mi sembra che la divisione in realtà faccia altro che aumentare ecco e sì, appunto creare ulteriore frammentazione. Ora, io posso dire che vale la pena essere cattolici dal punto di vista cattolico, cioè magari un protestante dirà un'altra cosa e il notorosso c'era un'altra cosa. La dico così senza entrare troppo in tecnicismi. La chiesa cattolica si propone appunto come cattolica totale, diciamo così. Vorrebbe essere la chiesa dell'unità che cerca l'unità di tutti gli uomini in tutta la terra. Dentro la chiesa cattolica in realtà ci stanno anche delle confessioni particolari, cioè la cattolicità della chiesa è quella che noi professiamo nel credo, credo la chiesa una santa cattolica, è la comunità di tutti gli uomini e le donne di sempre come le ha pensate Dio, quindi la chiesa va al di là del tempo e dello spazio in realtà. Noi la viviamo nel tempo e nello spazio, noi facciamo perché noi abbiamo queste coordinate esistenziali, ma in realtà la chiesa in sé, nella sua essenza va ben oltre. Però è anche vero che questo ragionamento noi lo possiamo fare a partire dall'esperienza che abbiamo avuto, cioè noi non sono lì noi nasce neutro, noi nasciamo e siamo drammaticamente condizionati. Se io fossi nato in Giappone, non so, adesso sarei prete, ok? Se fossi nato in Egitto non è detto che io poi sarei diventato cattolico. Ecco, noi abbiamo la possibilità di fare esperienza di verità nella nostra vita. La verità che si manifesta nelle persone, nelle circostanze che ci passano davanti. Dobbiamo considerare che la nostra esperienza poi si inserisce dentro un'esperienza molto più grande che quella dell'umanità e la Chiesa Cattolica dice l'esperienza di Gesù è l'esperienza della rivelazione piena di Dio e questa cosa abbiamo avuto la fortuna di riceverla, di accoglierla e ci proponiamo di portarla avanti, di raccontarla, annunciarla agli altri e a quelli che incontriamo di persona in persona senza imporla a nessuno diciamo così perché Dio non è venuto dall'alto e ha detto ma dovete credere così si è proposto e la Chiesa oggi propone deve proporsi però la cosa più vera che ti posso dire è dal mio punto di vista per me per la mia esperienza questa è la verità c'è sempre una dinamica di rischio dietro una scelta di fede e non posso mai sapere che questa è la legione giusta non posso mai sapere che questa è la proposta giusta ma non posso manco sapere che questa è la donna giusta della mia vita manco se me la sposo la fiducia la fede appunto porta in sé sempre una dinamica di rischio che è irriducibile e forse proprio per questo è fede se posso dire e offrire uno spunto di riflessione direi che quando tu Don Alberto hai parlato della grande continuità che c'è nella tradizione cristiana io pensavo a questo tu dicevi che cambiano i mezzi ma come dire il mare in questo caso il grande flusso del cristianesimo è dimensione di continuità io credo invece che l'esperienza che la storia del cristianesimo ci propone sia l'esperienza di una grande opera di discontinuità incessante nel senso che il cristianesimo è l'esperienza della novità quello che tu fai in realtà non è semplicemente quello di trasmettere il messaggio evangelico dentro cristiano dentro un contenitore diverso ma quello che tu fai è quello di rinnovare di rinnovare la dimensione del cristianesimo perché non esiste in realtà la tradizione cristiana fuori dal suo spirito di innovazione sempre la chiesa conservato innovato e ascoltato per certi versi pur dentro ovviamente esperienze e epoche di grande drammaticità ovviamente però ribadisco l'esperienza quando penso alla tua esperienza penso all'esperienza non di un giovane prete che con grande coraggio e con grande intelligenza si rivolge a una platea di giovani per portare loro la buona novella ma credo che ci sia dentro la tua esperienza l'innovazione stessa del messaggio cristiano questa è una cosa che non va sottovalutata secondo me che dici? dico che è verissimo che una autentica prospettiva cristiana diciamo così di evangelizzazione di santità di teologia prevede sempre la continuità e la discontinuità insieme ci deve essere discontinuità nella continuità perché poi a di fondo l'abicile cristianismo è lo stesso cioè Gesù Cristo il Vangelo è quella roba lì però poi in maniera discontinuità la prima grande discontinuità è stata subito quando Gesù è morto e San Paolo ha preso il pallino della situazione ha detto no facciamo diverso andiamo ad annunciare i pagani e Pietro ha detto ma come i pagani ma no ma quelli lì no per carità discontinuità ma in realtà c'è stata c'era una grande continuità perché Paolo ha dimostrato che quella novità era proprio in realtà la verità del messaggio e questo vale ad esempio nella storia dei grandi santi cioè Don Bosco San Francesco Santa Caterina Madre Teresa cioè sono tutti stati grandi santi di rottura di discontinuità perché nessuno ha mai stato come loro e hanno fatto cose che magari alla volta la chiesa ha detto ma no ma non stanno nel cielo in terra discontinuità però in realtà a ben vedere c'è una grande continuità di santità è l'originalità è la novità appunto come dicevi tu Claudio del Vangelo della buona notizia che però in qualche modo aderichia alla stessa anima diciamo così alla stessa anima che vive magari in corpi diversi in situazioni diverse in esperienze diverse e a volte anche molto discontinue sì ok forse se avete da dire delle cose prego io ovviamente resterei ora a parlare con Don Alberto figuriamoci queste sollecitazioni sono straordinarie quando parla del fatto che la realtà la realtà è ciò che è attuale e ciò che è virtuale insieme dice una grande cosa ormai il luogo della realtà è il luogo di ciò che accade attualmente ora ma è anche ciò che è virtuale la realtà è questo e questo è una grande novità la grande scoperta del mondo contemporaneo che ha anche delle implicazioni filosofiche straordinarie rivolgo a questo proposito una sorta di provocazione ma tu non pensi che in fondo tra lo spirito e la rete ci sia una affinità profonda beh sì effettivamente sì penso al fatto che appunto c'è lo spirito come si dice nel Vangelo è come il vento che va dove vuole e non sai non lo vedi però vedi gli effetti poi agisce cioè la dimensione dello spazio del tempo e lo spirito le supera così o meglio è l'eternità che contiene lo spazio del tempo Gesù risorto nei Vangeli compare un po' qui un po' là nello stesso tempo nello stesso momento in due punti diversi sotto spoglie diverse nessuno lo riconosce perché è al di là dello spazio del tempo e la rete un pochino infrange i canoni dello spazio del tempo come li abbiamo sempre conosciuti perché perché quello che adesso stiamo comunicando nello stesso momento ma lo spazio è diversissimo e quello che diciamo adesso posso caricare un video su YouTube adesso e questa cosa può essere vista in contemporanea da milioni di persone nel mondo può essere salvata e vista fra dieci anni per cui sì effettivamente sì e tu provi a pensare l'universalità la comunicabilità l'invisibilità sono caratteristiche dello spirito della rete in fondo è vero sì 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 va bene adesso mi taccio perché altrimenti divento insopportabile i miei studenti se ne vanno tutti scrivete anche in chat se non ve la sentite di parlare poi io presto la voce a leggere è un peccato se non non sfruttare questa occasione certo c'è bisogno di riflessione stendo riflettendo sì certo ma sarebbe interessante adesso siamo in chiusura penso sto prendendo capitoli però sarebbe interessante considerare oggi il mondo della comunicazione il rapporto alla chiesa e al mondo cioè in altre parole come la chiesa è vista sui social come la chiesa viene proposta sui social non solo come si propone essa stessa ma l'immagine è un po' che viene fuori anche perché oggi i social network sono molto potenti anzi io penso proprio che tante persone in qualche modo siano costruite una certa immaginario ecclesiale soprattutto in virtù di quello che hanno poi visto sui social network per la maggior parte dei casi sicuramente questo è interessante da notare da analizzare in maniera critica ecco tra le altre cose tra le altre questioni però appunto sono questioni ampie bene io come dire ecco c'è una domanda eccola Dario ci chiede secondo te i giorni di oggi sono meno vicini alla chiesa rispetto al passato i social network potrebbero in parte essere la causa di questo fenomeno sì direi proprio di sì così come sono anche molto meno vicini alla politica così come sono molto meno vicini all'istituzione molto meno vicini allo stato cioè il problema non è solo della chiesa il problema è delle istituzioni il problema di come la liberazione diciamo così può aver venuto apposta il 68 che è dovuta forse una pesantezza eccessiva certi meccanismi storici che sono successi negli anni di totalitarismi e non solo a un certo punto la gente si è stufata la società si è stufata in qualche modo si è ribellata ogni forma di potere di controllo aggiungici il fatto che il capitalismo ci ha resi fondamentalmente individualisti quindi incapaci di riconoscerci come persone quindi a partire dalle relazioni con gli altri la chiesa in sostanza è un circuito di relazioni è chiaro che il capitalismo in qualche modo è cioè se la chiesa diciamo così sta a dio come la società individualista sta agli idoli ecco per cui la chiesa vuole essere una società che vive delle relazioni e oggi il mondo di oggi gli idoli del successo del denaro del potere ci portano ad essere il contrario non insieme ma ciascuno per sé quindi il problema secondo me è molto più ampio rispetto al rapporto giovani chiesa si tratta di capire che inserire questa questione e questa osservazione specifica dentro un quadro che è più ampio e tiene insieme più fattori e i social semplicemente sono stati forse un moltiplicatore un acceleratore di processi non la causa dei processi un'altra domanda di Alessandro dice ciao Don Alberto secondo te quale sarà il prossimo step dopo l'atterraggio della chiesa sui social media? ma intanto questo step sa ancora da verificare cioè io lo vedo fino a un certo punto poi spero che cioè che finalmente si possa come dire vivere dentro questa società e questa realtà in maniera non problematica nel senso in maniera riconciliata diciamo così quindi che si possa essere chiesa pacificamente in presenza e a distanza che le energie che adesso mettiamo per tentare di innovare il linguaggio e poi possono essere messe da altre parti però boh francamente i tempi della chiesa sono molto lunghi molto ampi molto distesi io non penso non lo so boh è una domanda sicuramente molto lungimirante ecco diceva Martini che siamo indietro 200 anni rispetto alla storia va che arriva un'altra domanda di quelle proprio da studente del freezing Sebastian chiede buonasera secondo te nel prossimo futuro la ritualità dei sacramenti ad esempio il battesimo e la comunione potranno avvenire anche nella rete oppure questi eventi solo tali solo perché c'è una relazione fisica tra il discepolo e il maestro per essere più chiari se il mondo virtuale non è poi così virtuale sarebbe giusto andare ad unire o anche suffragare il reale con il virtuale ok domanda interessante secondo me questo è un fronte teologico che si apre però mi sembra che adesso comunque ci sia abbastanza chiari perlomeno nei riferimenti essenziali che no non è possibile ma questo non per svalutare il virtuale ma proprio per valorizzarlo per dire che è un'altra cosa scusate non è un'altra cosa sono due dimensioni della realtà che stanno insieme per cui una ha il suo specifico l'altro ha lo suo specifico non lo so io penso che possa essere come dire dire che la pornografia possa sostituire i rapporti sessuali in carne ed ossa con una persona ma sì effettivamente c'è del piacere pure di là però oggettivamente è tutt'altra cosa avere un rapporto fisico con una persona in carne ed ossa è chiaro che succedono delle cose anche virtualmente se ti arriva un messaggio vedi un video però è tutt'altra cosa vivere questo con dei segni concreti con delle persone reali dentro una comunità ci sono una serie di dimensioni che si intersecano dentro la celebrazione di un sacramento che cosa è un sacramento è il segno concreto tangibile di una grazia che per sé stessa non può essere tangibile e questa tangibilità viene sperimentata attraverso dei segni l'acqua l'olio le parole la celebrazione la presenza del sacerdote sono segni tangibili di qualcosa che è molto più grande però questa realtà molto più grande noi che siamo uomini abbiamo bisogno di sperimentarla in maniera umana sicuramente lo spirito passa anche attraverso i social certo però la chiesa nel corso della storia questa è un'altra dimensione storica che si aggiunge cioè quello che ha fatto la chiesa da sempre come dire in qualche modo permette in maniera garantita e personale relazionale comunitaria di fare certi tipi di esperienze comunque questo è un fronte che sicuramente va analizzato va discusso cioè mille sono casi specifici per dire io vivo in un paese straniero dove non si parla la mia lingua sono in peccato mortale sono in crisi esistenziale voglio confessarmi perché una confessione su zoom con un preto italiano che parla la mia lingua è possibile vale o non vale questi sono fronti di discussione però sono casi specifici eccezioni che però non fanno altro che confermare la regola in realtà molto chiaro dice se basta ancora allora la rete assume prevalentemente il ruolo di comunicazione dopo tutto la chiesa è anche comunità e mi sembra difficile realizzare una dimensione tale solo nella rete come hai detto è un fronte interessante penso che la dovremo la vedremo evolvere speri a lui è positivo che ci sarà per definizione Schubin è così non per dire che è un mio studente però non per dire che è anche un mio studente facciamo la gara adesso che non va bene non sta bene va bene va bene ok se non ci sono altre osservazioni e altre come dire proposte di riflessione io mi avvierei come dire concedere il nostro ospite a chiudere questo bellissimo questo bellissimo incontro pieno di di stimoli pieno di cose interessanti intelligenti di questioni aperte come deve essere veramente ogni esperienza cioè ogni esperienza non può e non deve sapere fino in fondo dove va a finire e come va a finire perché se no non è più neanche un'esperienza altrimenti è una visita guidata e questo non è lo spirito né della conoscenza e in qualche modo anche della fede perché la fede è la ricerca innanzitutto ha il suo grande valore nell'essere ricerca bene con questa con questa considerazione io concedo il nostro ospite don Alberto Ravagnani io spero spero che si riesca ad averti ancora in qualche altra occasione sempre con la intercessione e la mediazione del nostro grande Emanuele che è un altro grande uomo di fede e di e di e di social e non solo anche di informatizzazione allora io ringrazio tutti i tanti partecipanti che hanno ascoltato con noi visto con noi le parole profonde di di Don Alberto vi do appuntamento all'ultima all'ultimo nostro incontro dei pomeriggi culturali Frisini che sarà il 3 maggio lunedì 3 maggio con una conferenza di una giovane studiosa di Dante che ci parlerà dei rapporti tra Dante e le interpretazioni che in epoca fascista sono state date dalla Divina Commedia un altro tentativo di coniugare mari insomma in mondi differenti il tema del fascismo il tema di Dante il tema della storia il tema della ricezione politica di una grande di una grande opera come quella come quella di Dante ecco rinnovo ringraziamenti ancora Don Alberto vi saluto e vi ringrazio veramente tanto grazie arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti